Mi chiamo Piero Varone, ho 16 anni, vengo da Naro, provincia di Grigento. Mi chiamo Gianluca Ginoblio, ho 15 anni e vivo a Roseto degli Abruzzi. Il mio nome è Ignazio Boschetto, sono nato a Bologna il 4 ottobre del 94. Per me, oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Ma quando manciamo? Eh, tu lo vedi. Io ho un po' di fame. Ma sempre, sempre mangio. Che puoi? Quando si senti questa voce, non credo. Trovi ragazzi, cantando come un uomo di 45 anni. Con una grande voce. Sì, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Ho capito che questo ragazzo ha un potenziale incredibile. E ho chiamato uno dei produttori più grandi, Umberto Gattica, e ho risposto, se potete essere disponibili, io vorrei che noi e io, che faremo produrare questi ragazzi. Quando mio amore, Tony Rennes, mi presenta a i ragazzi, e ho senti i ragazzi, pensavo erano falsi. Pensavo, non c'è una ragazza che una 15 anni fa può dire come questi ragazzi. Non ho mai senti nulla come. Sono assolutamente uno di una. e qui siamo. Siamo produrare un grande album. La luna hizo questo, fu' culpa della luna, avermi enamorato, enamorato di ti. Tu brillo e riflettere, tus occhi mi fortuna, la luna lo hizo assì. La luna lo hizo assì. La musica per me è vita ed è un modo per trasmettere alle persone che mi ascoltano quello che ho dentro. Un membro familiare, no? È una cosa che si respira tutti i giorni. Per me la musica è tutto, cibo, ossigeno, tutto, perché quando siamo dentro lo studio a registrare, stiamo ore e ore e ore, cioè dimentichiamo di cenare, non ci fa nemmeno impressione. A me il cibo fa impressione. Che in un momento lascia dentro tanto freddo, insieme tanta povertà, che va... These three kids, they start to fly, and then we call them il volo. Mille giorni di felicità, mille notti di serenità, farò tutto l'amore che ha per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai, che morirei senza di te. Per te, per te vivrò, l'amore vincerà. Con te, con te farò tutto quello che mi chiederai, andrò sempre, nonunque tu andrò, darò tutto l'amore che ho. Per te, per te, per te, per te. Siamo lavorando molto molto. Abbiamo venuto il studio, abbiamo venuto l'amore, come alcuni altri artisti. Abbiamo anche l'opportunità di incluirla in la ricordazione di We Are The World For Haiti. Quando si senti le voici, tutti stanno tornando e pensi, «Ello, chi sono questi kids?» E' divertente. 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 da come si muovono, da quello che fanno, da come cantano, da quello che sono già in un'altra dimensione. Aspettateci, stiamo arrivando.